buon quello che volete voi sto registrando di sera e molto difficile registrare in questo periodo per cui volevo avvisarvi prima di tutto che se doveste vedere questo video con dei cambi di luce eventualmente anche di abili perché purtroppo dovrò farlo in più giorni è tanto tempo che non faccio una reaction e rispondo alla richiesta di Carmelo nella squadra di investigazione paranormale italian paranormal research seria professionale che ho iniziato a seguire da poco che già mi ha accolto molto bene ho scelto la loro prima indagine paranormale che io non ho visto l'ho scelta in parte perché non l'ho vista e soprattutto perché si concentra in un unico video vi anticipo che ci troveremo a fare una delle poche forse l'unica non lo so indagini in una inizio col botto mostrami che sei qui che cazzo ha detto non avevo mai sentito una frase intera come ti chiami non avevo mai sentito un po' che sopra Noi si brali, vedi tutti i tessi fai, non si è scaricato. Oddio si sembrano cani ragazzi Oddio l'ho vista Non dice qualcosa cacchio C'è qualcuno che mi ha mai Se ti stai a darci un segno Qualsiasi cosa Un umore Ora tento un approccio aggressivo con l'entità che si manifesta perché sente che non si tratta più di una bambina Maglia Sì Sei da solo Sì Sei un'entità buona Perché io sento che c'è qualcos'altro Fammi parlare con lui No lo dico io Fammi parlare con lui Lo chiamo io se non mi ci fai parlare te Sto parlando all'entità Che trattiene sto bambino Vieni fuori Se hai il coraggio Non mi fai paura Vieni fuori Continua a dire no Parla Ora No Non mi fai paura Vieni fuori Qu'Plusina Che succederà Oh Che succederà Ne Che succederà anche perché c'è stato un periodo anche ultimamente che fra mezzanotte e la mezza suona il trillo di una vecchia presa di telefono fra mezzanotte e la mezza e non tutti i giorni però a giorni alternati qualche volta un paio di giorni di seguito un giorno sì poi il suor risuona però l'orario è sempre quello da mezzanotte alla mezza suona questo trillo quindi facci capire c'è una vecchia presa di un telefono dentro casa tua però non c'è nessun telefono no 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 è tutto scollegato e in questa particolare ora questo telefono sembra che suoni questa è una presa antica perché è una presa vecchia degli anni 50 e 60 sarà perché è fatta di ferro e emana come un trillo però se non ci vai a toccare così non suona a meno che non ci sia qualcosa una forza energetica qualcosa che lo fa suono ragazzi lo so che è noioso però secondo me l'intervista aiuta a capire ragazzi spegne con addirittura la chiusura dello sportellino video come possiamo vedere e sentire aia io non sono un grande osservatore di foto sono normali però sembra un po' il figlio anche a me voi cosa le dite rispondete nei commenti il 15 settembre carmelo e cesare fanno ritorno nell'abitazione per riprendere nuovamente il campanello stile anni 40 che a detta dei proprietari suona quasi ogni notte senza spiegazione dalle foto del 2 settembre abbiamo comunque dei risultati interessanti come prefiro di una bambina sospesa nel vuoto davanti alla camera da letto sarà la piccola francesca lasciamo le nostre videocamere nel soggiorno dell'abitazione alle ore 0 e 5 minuti e questo è il tuo segno puoi rifarlo? quello quello mi sembra il capo al buio al buio non è che veda che anche devo rifare ecco ha rifatto ha rifatto se non mi combina di nuovo a francesca? ragazzi scusate ma io voglio delle reazioni più naturali possibili da parte mia ovviamente hai paura? quindi non hai paura? adesso usciamo se ci vuoi dare un segno della tua presenza stai cadere quella pallina o uno di quegli attrezzi vicino alla sedia o anche il K2 questo tonfo? questo tonfo? questo tonfo? questo tonfo? questo tonfo? violanza? quindi non lo vediamo in questa musica? l'occhio l'ho visto non ci vuole non ci vuole un terzo occhio si vede benissimo ansia voi pensate che noi che crediamo nel paranormale non abbiamo ansia non è vero eccolo il campanello non c'è nessuno non è vero no non è vero è vero è vero è vero Vabbè, raga, non leggo. Tac. Non dite? È K2 il pazzo. Tuttavia, il ritorno all'abitazione ci ha dato la certezza che in questo luogo vi sono dei misteri inspiegabili. Grazie a tutti ragazzi per aver visto questo video assieme a me. Spero che vi sia piaciuto. Spero che tra di voi si nascondano degli amanti del paranormale che abbiano apprezzato questa mia produzione che io ho fatto molto molto volentieri. Iscrivetevi se non siete iscritti. Attivate la campanella per non perdere nuovi video. E ultimo, ma non per importanza, ricordatevi di iscrivervi al canale dell'IPR, Italian Paranormal Research, che troverete in descrizione, presente su YouTube, Instagram e Facebook. Grazie a tutti. Ciao.